La parola amore è la parola amore, non abbiamo molte altre parole per esprimere lo stesso concetto. Ebbene, il greco, che è la lingua in cui ci è pervenuto il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento ci è pervenuto in greco, non è escluso che sia stato scritto in ebraico precedentemente, ma questo è oggetto di studio per ora, quello che è certo è che ci è stato tramandato in greco. La parola amore in italiano, per esempio, nel greco ha diverse parole per esprimere il significato dell'amore nei confronti di diversi destinatari dell'amore stesso, o del contenuto dell'amore. Per esempio il greco ha agapeo, stargeo, fileo, erotao, sono tutti termini che vengono usati per indicare l'amore disinteressato, gratuito, l'amore divino, incondizionato, il primo, l'amore tra familiari, il secondo, l'amore tra amici, il terzo, e l'amore inteso con l'atto, nella relazione sessuale con l'ultimo. Quindi, capite, il greco aveva delle sfumature particolari che quando veniva usato un termine, in italiano si traduce amore, ma in greco aveva un altro significato. Non possiamo non considerare questo, perché se noi consideriamo che l'agape, cioè questo amore fraterno, questo amore incondizionato e divino, se noi usiamo questa parola e la vogliamo riferire a quello che oggi potrebbe essere il rapporto tra una persona e un animale, molti dicono amo il mio cane, amo il mio gatto, beh, in greco se avessero usato la parola agape in relazione al cane o al gatto sarebbe stata una cosa incomprensibile, mentre noi possiamo usare la stessa parola. Quindi, occorre andare a capire che cosa vuol dire. Perché? Perché l'errore sarebbe macroscopico. Pensate a pistis, la parola greca, che indica non solo la fede. Guardate qui quanti significati ha. Abbiamo fatto nel 2010 una lunga serie sulla fede. Vuol dire fede, vuol dire fiducia, obbedienza, lealtà, promessa e garanzia. Ecco, allora, quando nel testo greco troviamo pistis, c'è di tutto. Quale di questi significati vorrà dire in quel determinato passo? Va contestualizzato, va capito a cosa, a quale concetto va riferito in quel momento. Poiché se invece di fede intendi obbedienza, è chiaro che la cosa cambia, o lealtà o garanzia, la cosa può cambiare. In italiano troverete, tradotto, lo dico per tutte le versioni, più o meno, lo guardate un po' tutte, di tutte le varie tipologie di fonti, la parola pistis è tradotto con fede, pari pari. E questo toglie il senso di quello che fu scritto all'origine. Ancora, pensate a questa parola, baptizzo, baptizzo, o bapto, è la parola, qui c'è una citazione, scusate, sbagliata, sotto, Romani 5, 9, non c'entra niente, ma vuol dire immergere, immersione. Ora, il termine greco, bapto, vuol dire immergere qualcuno, qualcosa, dentro qualcos'altro. Il termine baptizzo vuol dire è l'azione dell'immergere. Questa parola è stata da molti interpretata come, con questo significato, vuol dire immergere nell'acqua. Ma questo è errato, perché addirittura, in alcuni riferimenti, nei più accreditati vocabolari, dizionari di greco, la parola bapto, baptizzo, vuol dire anche coprire, come se dovessimo imbiancare un muro, verniciare qualcosa. Ricoprire, non solo immergere, è molto limitato questo uso. Ma l'immersione non è necessariamente nell'acqua. Può essere qualsiasi tipo di cosa nella quale una persona o una cosa viene immersa. Erroneamente, basandosi sugli propri preconcetti, molte persone, cristiani, che hanno interpretato la Bibbia, o non cristiani, che siccome il battesimo non è inteso, il battesimo nell'acqua non è un atto cristiano, ma è un atto che viene fatto, era tipico anche degli ebrei, ne parleremo magari un'altra volta, ben prima che Gesù venisse, molto prima. Voglio dire, consisteva nell'essere immersi nell'acqua. E quindi è rimasto questo senso per cui ancora oggi alcuni pensano che voglia dire esclusivamente immersione nell'acqua. Ma questo non è esattamente vero. Quindi capite che se noi arriviamo ad estremizzare questi concetti che pensiamo di attribuire a una parola, battizzo vuol dire immergere nell'acqua, quindi un battesimo nello Spirito Santo non avrebbe senso. Non so se riesco a esprimere bene questo concetto. Un'altra parola sulle difficoltà testuali che troveremo, non era Romani 5 e 9, ma era un'altra parola, era Romani 6, e qui non me lo ricordo, magari più tardi riusciremo a ritrovarlo. Faccio ricorso ad Anna perché è una cosa che abbiamo trovato tra le versioni italiane e quella slovacca, perché abbiamo la benedizione, la possibilità di andare a vedere molte versioni, anche di diverse lingue oggi, l'italiano, lo slovacco, l'inglese e il polacco, e confrontiamo sempre, escono fuori delle cose che nemmeno sono immaginabili. La parola, ci arriveremo dopo comunque a questo. Un'altra parola molto importante è la parola lode. In italiano tutti questi termini ebraici che erano usati nel Vecchio Testamento sono tradotti con un'unica parola, vuol dire lode. Ma quando Dio ha detto yadda, in italiano viene tradotto lode. Ma Dio non disse loda, Dio disse alza le mani al cielo e offri a me un ringraziamento pieno di gioia per quello che ho fatto per te e ancora non hai visto, ma sei fiducioso che avverrà. Quindi è un'altra cosa. Quando noi diciamo lode, ma Dio disse Shabbak, fece scrivere Shabbak che scrisse, questo vuol dire urlare il nome di Dio. E quindi qui è un contenuto preciso di quello che Dio ha detto. E così esiste una lode anche silenziosa, e cioè una lode che consiste nell'immergersi in un modo particolare nella presenza di Dio tanto da scivolare nell'adorazione. Questo è chiamato Barak. Quindi se da una parte devi urlare il nome di Dio, dall'altra bisogna che tu ascolti quello che lui comincia a dirti. Sono due cose completamente diverse. Ebbene, in italiano è tradotto con il termine lode. Quindi l'italiano che non conosce, non va a documentarsi, non sa qual era il significato originale della parola, non saprà mai ciò che Dio aveva fatto dire agli uomini di fare per lodare il suo nome. Questo è un esempio piuttosto importante. Anzi, a proposito, il giorno 23 gennaio faremo proprio qui un seminario sui livelli della lode fondato appunto sulla diversa tipologia di atteggiamenti che il Signore ha richiesto durante la lode a Lui. Un'altra parola molto importante per queste distinzioni e differenze è il termine porneia. Questa parola, che sto solo facendo degli esempi per farvi capire di cosa stiamo parlando. La parola porneia di per sé vuol dire prostituzione. Prostituzione, qui ho scritto prostituta o idolatra. Nei vocabolari migliori, la parola porneia vuol dire prostituzione o idolatria. Come capite dal termine, da qui viene la parola pornografia. Quindi è tutto ciò che attiene ad un atteggiamento di prostituzione del corpo in relazione all'atto sessuale. Quando Gesù fu interrogato sulla liceità del divorzio, Gesù disse che l'uomo non poteva separare ciò che Dio aveva unito e disse se non in caso di porneia, Gesù disse, se c'è un caso di porneia si può divorziare. Questa è la sua parola. Che vuol dire dunque, capite quanto è importante individuare il significato di questa parola? Perché se non sai cosa vuol dire, puoi inventarti di tutto. Ovvero, se preferisci sentirti dire qualcosa di particolare da Gesù, puoi inventarti di tutto o forzare il senso di quella parola al fine di ottenere il significato che tu vuoi sentirti dire. Questo è il pericolo dell'interpretazione soggettiva. Porneia, al tempo di Gesù, voleva sicuramente dire prostituzione, non idolatria. Mi sono anche documentato da professori di greco che studiano e mi hanno detto, no, guarda, porneia in quel periodo storico era usato soltanto per indicare prostituzione. In altri contesti e in altri momenti ha assunto anche il significato di idolatria. Ma a quel tempo non puoi riferire il significato di idolatria alla parola porneia, perché voleva dire solo prostituzione, e cioè uso nell'atto sessuale del proprio corpo per avere un beneficio in denaro. Questo è il senso. Magari ne parleremo poi più diffusamente alla termine di questo insegnamento oppure la volta successiva, perché ci sono qui delle sfumature parecchie interessanti che vorrei andare sulla pratica di come l'interpretazione di un termine di questo genere può portare una diversità di atteggiamento nella vita di coloro che credono nella parola del Signore. Cosa dire poi di coloro che non l'hanno nemmeno considerata, quasi escludendola da quel contesto, come se Gesù non l'avesse detta. Ci sono delle situazioni in cui non possiamo non prendere atto di distorsioni interpretative o di uso erroneo delle parole che ci sono. Ancora c'è una parola, anzi due parole, pneumaticon e carismaton. Sono due parole che Paolo usa nella prima lettera ai Corinzi, nei capitoli 12 e 14 soprattutto. Però nel capitolo 12 al verso 1 dice, parla di cose spirituali, le cose spirituali, cioè dice non dobbiamo rimanere ignoranti sulle cose dello spirito, pneumaticon. Allora, non è carismaton, i doni spirituali, il discernimento degli spiriti, la parola di conoscenza, la parola di sapienza, il dono delle lingue, le guarigioni, i miracoli, la fede, la profezia, l'interpretazione delle lingue. Questa è una categoria più circoscritta. Sono cose dello spirito, ma non esauriscono la categoria. Quindi questa parola pneumaticon si riferisce a qualcosa di più ampio che comprende i carismaton, ma non lo esaurisce. Quindi, per esempio, la fede è qualcosa che attiene allo spirito, è una cosa dello spirito. è anche un carismaton. E quindi, in questo caso, tutte e due sono ricompresi. Ma le cose dello spirito, tutto ciò che lo spirito umano fa, l'intuizione, riceve rivelazione, la coscienza, la comunione con Dio, sono tutte le cose su cui Paolo dice, non dovete rimanere ignoranti. A maggior ragione sappiate che ci sono anche dei carismaton, cioè dei doni spirituali, che vengono dati, eccetera. Quindi, la differenza non è così abissale, però ci fa comprendere che a volte noi restringiamo il concetto, così, perché l'abbiamo trovato tradotto una volta e ce lo siamo portati dietro. Ma non è sempre da limitare il concetto in questo modo. Ancora, una cosa molto interessante. Quando Gesù parla in Matteo 5 e dice i miti, beati i miti, perché erediteranno la terra. Quando dice miti, usa questa parola praes in greco e vuol dire miti. Vuol dire anche dolci, placidi, benigni, amorevoli. Sentite quante sfumature ha in greco questa parola. L'italiano è mite. Ebbene, ci siamo sorpresi in modo tremendo quando, mi sembra, nella versione slovacca, se non perfino in quella polacca, è tradotto con silenziosi. Pertanto, aver dato a questa parola praes del greco che Gesù usa dicendo beati i praes perché erediteranno la terra, in Italia si intende che i miti erediteranno la terra e in Slovacchia intendono che i silenziosi erediteranno la terra. Quindi da una parte troverà gente mite, dall'altra gente che non dice una parola per giorni perché pensa che comportandosi in quel modo erediterà la terra. Quindi dare a una parola un significato anziché un altro porta alla gente che poi crede nella parola a costruire dottrine, a comportarsi in un certo modo e magari non è quello che ce l'ha scritto. Questo è, non dico tanto solo un errore, ma una beffa. Perché passi tutta la vita con delle convinzioni, metti fede in un significato che non c'è. E questo è una beffa, secondo me. Eccolo qui. Eccola qui, quella, non era Romani 5.9, vedi, ma era Romani 6.7. Guardate questa, abbiamo trovato questa situazione tra l'italiano e lo slovacco. Dice, infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato. Questa è la versione italiana ed ecumenica slovacca dei Romani 6.7. Ebbene, invece, nella versione cattolica slovacca c'è, infatti, chi è morto è giustificato dal peccato. Capite che cosa, cioè, a parte, forse in italiano non vuol dire nemmeno niente, ma qui si ritiene che il peccato giustifica, mentre Romani dice che sei liberato dal peccato, non giustificato dal peccato. cosa possiamo dire? Ci sono delle sfumature che non possono essere trascurate perché poi trasmettiamo degli errori e la gente, appunto, ha dei problemi. Quindi, questo è il primo punto. Quando interpretiamo la Bibbia dobbiamo tenere, prima di tutto, in grande considerazione, la lingua e, nell'ambito della lingua, cioè del linguaggio usato, delle parole scritte, il significato di queste parole. Ok? Fino ad oggi, fino ad ora, abbiamo visto questo, il significato letterale delle parole che viene usato. Andando avanti, sempre in relazione alla area lingua, vediamo anche che, al tempo di Gesù, il greco era usato come una lingua comune a tutti i popoli della zona del Mediterraneo e oltre. Infatti, qui non si tratta più del significato, delle singole parole, ma di capire che il greco, nel quale ci è stato trasmesso il Nuovo Testamento era, per la gente di allora, come l'inglese di oggi. Dice, perché in greco il Nuovo Testamento? Dio fa sempre tutto bene, ha usato il greco e ha fatto sì che nei secoli rimanesse il greco per un motivo. E ora cercherò, molto brevemente, di farvelo vedere. Quello che voglio farvi capire, però, è questo. Tutte le lingue usate dalla Bibbia, ebraico, aramaico e greco, sono lingue orientali, quindi i significati che esprimono non possono essere filtrati da concetti occidentali che abbiamo noi italiani, per esempio. Non è possibile. Anche questo è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Comunque, quello che voglio farvi vedere è il contesto linguistico del tempo. Molto importante, perché ci fa capire quanto azzeccata è stata la persona di Paolo, grazie al Signore per lui, perché è nato a Tarzo, in Cilicia, vissuto a Gerusalemme, poi ha preso il punto in largo, portando la buona notizia del Regno dei Cieli alle nazioni, ha invaso le nazioni con questa notizia, e Paolo parlava greco, ovviamente. Perché? Perché Tarzo era un centro commerciale, perché c'erano gli scambi, perché si parlava il greco in quella zona. È un periodo ellenistico. Gli ellenisti non erano i greci, non in Grecia, ma erano le persone che risidevano da altre parti e parlavano il greco. Per questo si chiamavano ellenisti, quindi non sono i greci, ma sono altre persone che parlano il greco. Paolo è uno di questi. Guardate bene, Atti 21-37, sempre il contesto, vedete? Sempre capire in che contesto siamo. Qui Paolo è a Gerusalemme, era stato appena invitato dagli anziani della Chiesa di Gerusalemme ad andare nel Tempio e farsi vedere bravo giudeo che osservava tutta la legge e faceva i suoi bravi riti. Quindi fu convinto ad andare per non destare sospetto, perché se l'avessero riconosciuto anche a distanza di così gran tempo sarebbe stato un problema per lui a Gerusalemme. Ebbene, lui va, comunque lo riconoscono, un tumulto, una sommossa, lo vogliono uccidere. E viene in qualche modo salvato da questo tribuno romano che arriva perché sente il tumulto e lo strappa la folla in ferocita. E Paolo a un certo punto dice a questo comandante, perché viene addirittura, la folla cercava di prenderlo, tanta era la gente, la foga, volevano ucciderlo, che, dice, i soldati romani dovettero portarlo a spalle, quindi sopra la folla, passarselo, e poi dovevano salire delle scale. Quindi lo stavano portando via, strappandolo alla folla in ferocita. E Paolo si rivolge al comandante e dice, posso dirti una parola? Immaginate il contesto, va bene? E ora sentite le parole, posso dirti una parola? E quello disse, conosci il greco? Allora non sei quell'egiziano. Paolo si rivolse a Gerusalemme, in greco, a un romano. E il romano, comprese benissimo, e gli disse, allora non parli il copto. Perché gli egiziani parlavano il copto. Se non il greco, laddove è tipo Alessandria, eccetera. Quindi capite che ambiente era? Era un ambiente dove, se parlavi romano a un greco, a Gerusalemme, essendo te giudeo, quello capiva perfettamente. E rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarzo in Cilicia. Vedete, questa è una cosa, ne parleremo magari un'altra volta. Non avrebbe senso oggi dire, io sono un italiano di Siena in Slovacchia. Non si direbbe mai una cosa del genere. Allora per loro era una cosa normale. Dunque, appena il comandante concede a Paolo la parola, vedete nel verso successivamente, atti 21-40, dice, Quindi parla in greco al comandante, si rivolge in ebraico al popolo e iniziò a parlare. E subito dopo, vedete, dice, quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Quindi voleva dire che li colpì. C'era qualcosa di strano nel fatto che si rivolgeva loro in lingua ebraica. Che lingua parlavano allora tra di sé? O si aspettavano che lui parlasse il greco? Capito? E' interessante vedere questo contesto multiculturale, internazionale, diremmo oggi noi. In quel di Gerusalemme, proprio in quel contesto, accadono queste cose. Poi Paolo lo portano comunque dentro, i romani, e lo vogliono flagellare, così come d'uso. Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che li stava accanto, potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Non parlò al comandante che si pensa aveva un livello di cultura forse un po' più alto, capiva il greco il comandante, si rivolse al centurione. Forse anche il centurione capiva in greco e continuarono a parlare in greco. O forse Paolo parlò in latino a questo centurione. Non lo sappiamo. Oppure il centurione stando a Gerusalemme conosceva l'ebraico, l'aramaico, che era la lingua, il dialettale quasi che veniva parlata. Non lo sappiamo. Però capite, già il fatto che non si può identificare, precisamente indica che c'era un insieme, una grande varietà di lingue. E ancora poi abbiamo Paolo che viene mandato a Roma e sale su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, Salpammo, avendo con noi a Ristarco un macedono di Tessalonica. Quindi lui viene su una nave di Alessandria viene messo. Quindi c'erano gente dell'Egitto, di Alessandria, che parlavano greco presumibilmente, o Copto. Eppure viene messo su quella nave, non ci sono problemi di comunicazione. Con sé ha un macedone, Paolo, a Ristarco. Quindi, capite, anche le razze e le culture stanno sulle navi insieme, si mischiano, si capiscono, parlano. Perché su queste navi poi abbiamo delle storie che si sviluppano in questi ultimi capitoli degli atti. E quindi, si capiscono. Atti 27.6 dice, qui il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per Italia e ci fece salire a bordo. Quindi un'altra, cambiano nave su un'altra ancora. Ma non ci sono problemi, si capiscono. Difatti, poi arrivano a Malta e gli indigeni ci trattarono con rara umanità, ci accolsero. C'era un certo Publio che era un benestante e li tenne ospiti per tre giorni e poi, siccome Paolo cominciò a guarire la gente, arrivarono tutti, guarì tutti e poi se ne andarono. Che lingua parlavano tra di sé? Non c'è un problema di comprensione, di comunicazione. Ci doveva essere dunque qualcosa che accomunava tutti questi popoli e che rendeva tra di loro facile la comunicazione e la comprensione. Ancora, andando avanti, vedete, dopo tre mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola recante l'insegna dei Dioscuri. A Prodamma, a Siracusa, lì parlavano greco, Alessandria parlavano greco, a Siracusa greco. Qui costeggiando, giungemo a Reggio, greco. Poi arrivarono a Pozzuoli e di qui a Roma. A Roma parlavano latino, ma lui si incontra con i giudei, parlavano ebraico, aramaico. era tutto un insieme che ci fa pensare che veramente il greco, che è quella lingua che ci è stata tramandata come testo più antico per noi del Nuovo Testamento, era la lingua internazionale, era la lingua che tutti potevano capire. Ecco perché dunque abbiamo il Nuovo Testamento trasmesso, è una lettura che noi vogliamo dare. Non c'è da meravigliarsi del resto, proprio a Gerusalemme la varietà delle lingue era qualcosa di assodato. Per esempio qui abbiamo in Giovanni 19 Pilato fece scrivere sopra Gesù sulla croce Gesù il Nazareno il re dei giudei e lo lessero tutti, dice vedete molti giudei lessero questa iscrizione perché era vicino alla città questo luogo era scritta in ebraico in latino e in greco quindi pensate voi ebraico latino e greco un'iscrizione su una croce di un condannato a morte quindi erano lingue che tutti leggevano in un mondo abbastanza disinvolto da quello che si capisce qui e cosa dire poi del giorno di Pentecoste tutti noi sappiamo e conosciamo bene questo passo quindi erano a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione e poi iniziarono gli apostoli uscirono iniziarono i 120 a parlare tutte le loro lingue guardate qui soltanto per essere così interessante la scoperta forse non ci avevamo fatto caso sotto sto profilo siamo parti medie e lamiti della Mesopotamia della Giudea Cappadocia Ponto Asia Frigia Panfilia Egitto Libia di Cirene Romani Giudei Cretesi Arabi sentite questi erano tutti giudei sparsi per tutti questi territori nel bacino del Mediterraneo o intorno e si ritrovavano a Gerusalemme per la festa e quindi ognuno di loro parlava la lingua della loro terra di dove vivevano però parlavano anche la lingua tra il loro comune che forse era l'aramaico o era l'ebraico molto probabilmente però siccome l'iscrizione era anche in greco capivano anche tutti il greco perché venivano da luoghi dove quindi c'era una multiculturalità quasi impensabile per noi ai nostri tempi se non facendo riferimento all'inglese che è questa lingua che oggi accomuna un po' tutti per quello che riguarda ecco qui la storia quindi passiamo al terzo punto al secondo punto la storia abbiamo parlato per ora della lingua come interpretare la lingua parliamo della storia ci sono delle fonti non solo fonti bibliche dobbiamo trovare o fonti cristiane ma fonti extra bibliche è importante leggere qualcosa che riguarda il tempo riguarda la cultura riguarda la storia del tempo appunto la situazione sociale e culturale dell'epoca attraverso queste fonti extra bibliche molto importante per esempio abbiamo raggruppate qui quattro Tacito Giuseppe Flavio Svetonio Plinio ci sono dei riferimenti molto importanti Tacito racconta dell'età di Nerone la persecuzione contro i cristiani c'è un brano leggetelo piuttosto interessante Giuseppe Flavio autore che ha scritto molto sulla storia del popolo ebraico fino al 64 65 insomma documenta molto bene alcune cose c'è una parte di questo di questo scritto che parla proprio di Gesù come un uomo particolare leggetelo andate a cercarlo è molto interessante ma per esempio ho trovato qui di come si può trovare un riscontro extra biblico a quello che c'è sulla Bibbia vi faccio vedere un esempio subito ora prendete Svetonio guardate Svetonio scrive l'imperatore Claudio scacciò da Roma ai giudei che i stigati da Cristo erano continuamente in lotta questo è un autore non cristiano che scrive la storia di quel tempo dicendo che Claudio scacciò da Roma ai giudei in Atti 18.2 è narrato lo stesso fatto da chi ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli qui trovò un giudeo chiamato Aquila parla di Paolo trovò Aquila a Corinto oriundo del Ponto arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei Paolo si ricò da loro vedete qui c'è con bacio la fonte extra biblica con quella biblica e quindi è molto interessante poter vedere i riscontri che ci sono se potete ora non abbiamo tempo leggete quelli gli scritti anche di questo Giuseppe Flavio molto interessante vissuto tra il 37 e il 100 dopo Cristo quindi dà uno spaccato interessante sulla figura di Gesù definendolo lui stesso una persona particolare una persona giusta che faceva molte guarigioni faceva racconta e in alcune traduzioni dicono che lui stesso afferma che dopo tre giorni era risorto mentre in altre più addolcite perché poi c'è una disputa pare dice che i cristiani hanno contaminato questo testo per tirare l'acqua al loro mulino come al solito c'è questa questa tesi che scappa fuori ma in un'altra traduzione dice che i cristiani riferiscono che egli era risorto dopo i tre giorni quindi comunque c'è una narrazione storica extra biblica della vita di Gesù di ciò che gli fece della sua risurrezione perlomeno affermata dai suoi seguaci quindi questo ci viene raccontato da fonti extra bibliche interessante anche se leggete in Plinio dice per esempio fa un accenno ai cristiani dice erano soliti riunirsi alle prime luci dell'alba e innalzare un canto a Cristo come se fosse un Dio quindi che cosa facevano i cristiani in quel periodo si trovavano le prime luci dell'alba innalzavano un canto a Cristo come se fosse Dio questo era ciò che colpiva la gente che li vedeva cosa colpiva Plinio e Sveton erano sempre in lotta e cantavano a questo Cristo che per loro era un Dio queste erano le caratteristiche che a Roma venivano venivano notate che dire poi per esempio sempre in queste fonti potete trovare la storia per esempio di Erode Erode è descritto come una persona paranoica sempre insicura era un mezzo sangue tra gli ebrei e i romani era uno che cercava di compiacere e gli uni e gli altri ecco perché lui era molto preoccupato di Gesù perché avrebbe potuto non sapeva bene come rapportarsi se dalla parte dei romani dalla parte dell'ebrei ecco perché comunque cercava in qualche modo di trattenere ogni epilogo sulla sorte di Giovanni perché molti molti ebrei seguivano Giovanni e quindi voleva tenerseli buoni in qualche modo quindi storicamente ci sono delle cose che noi magari se non le leggiamo non comprendiamo ma c'era questo questo clima quindi era una persona diffidente sospettosa era sempre pensava sempre che ci fossero complotti era spietato e crudele questo è quello che ci viene ci viene detto per esempio la storia perché è importante per capire il testo biblico perché quando leggiamo di Gesù che dice che parla caccia i demoni e in uno ce n'era una legione se il demonio dice il mio nome è legione dalle fonti estrabibiche sappiamo che una legione in quel tempo era composta di circa 6.000 soldati quindi sappiamo che cosa vuol dire quando dice mio nome è legione ce n'aveva 6.000 dentro di questi spiriti maligni insomma oppure possiamo capire da fonti estrabibiche perché Gesù dice se ti chiedono di fare un miglio tu fanne due non ha senso per noi oggi questa parola non ha senso che senso può avere nessuno per loro sì perché c'era una legge dei romani che diceva che lì nel territorio nella quale erano i coloni romani sul territorio appunto loro avevano il potere di farsi portare le cose dagli indigeni per un miglio e poi se lo facevano portare anche per molte miglia in più per esempio la lancia era molto pesante ed erano stanchi di portarsela potevano ingiungere a qualsiasi ebreo prendi la lancia e portamela per quanto ti dico io quindi l'indicazione di Gesù dice se ti chiede di farlo per un miglio tu fanne per due perché? perché nel regno dei cieli c'è una legge che è superiore a quella dei romani e cioè la legge è quella che disarmi l'avversario togliendoli il comando semplicemente non combattendo ma facendo due miglia questo è quello che rimane poi dell'insegnamento in quel senso lì voglio andare avanti perché devo arrivare a delle cose molto importanti quindi della storia abbiamo detto altra area da cui deriva la comprensione del testo è la filosofia e la teologia sono due aree molto importanti vedete ognuno interpreta la Bibbia secondo le idee che ha nelle quali crede quando credi nelle idee che guidano il tuo comportamento queste diventano il tuo stile di vita e quando le tue idee hanno la tua fede diventano il tuo stile di vita quella è la tua filosofia dunque ognuno ha la sua filosofia di vita e quindi se non puoi interpretare un testo separandosi dalla tua filosofia ma l'interprete deve cercare di essere oggettivo perché se diventa soggettivo lo vedremo dopo che cosa può succedere quindi le idee in cui credi influenzano la tua interpretazione dobbiamo essere coscienti di questo le idee in cui crediamo influenzano la nostra interpretazione interpretazione delle parole e dei loro significati ancora per esempio ecco su questo ora apro un aspetto molto importante vorrei appunto che faceste attenzione a quello che sto per dirvi in un modo particolare perché chiaramente questa situazione dell'interpretazione di alcune parole secondo filosofie o teologie diverse ha dato luogo a dottrine diverse spaccature storiche lotte e sangue addirittura quindi non ho io qui la presunzione di dare una soluzione ovviamente sto solo cercando di mettere in luce l'importanza di una corretta interpretazione e di un cuore aperto alla rivelazione altrimenti la Bibbia diventa anche un libro pericoloso perché o è innocuo del tutto e cioè è solo un cibo culturale per gli intellettuali cosa che poi alla fine non serve a niente o diventa pericoloso perché genera lotte inimicizie quindi se non interpreti correttamente come vedremo dopo corretta esegesi corretta esposizione rivelazione dello Spirito Santo se non c'è questo resta un libro o inutile o pericoloso è inutile nel senso per il senso che intendiamo noi storicamente ha invece sempre delle utilità chiaramente prendiamo la parola fratelli ecco su questo argomento dunque la parola fratelli in greco il fratello è detto in greco adelphos adelphos è usato moltissimo io ho buttato giù molti passi dove c'è basta andare sul computer non c'è da far granché digitare la parola fratelli viene fuori in tutti i passi oggi siamo molto facilitati in questo e ho preso qui due versi tra l'altro quelli forse più controversi dove si riferisce che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle e in Matteo 13 56 dice non è non è forse il figlio del carpentiere sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo Giuseppe Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi da dove li vengono dunque tutte queste cose allora questa parola fratelli cosa vuol dire adelphos vuol dire fratello non vuol dire altro e vedete qui può voler dire però primariamente fratello biologico può voler dire fratello nel senso di congiunto stretto ma comunque una cerchia più larga dei fratelli biologici di sangue e addirittura in alcuni casi può voler dire anche confratello in senso religioso usato da certi ambienti religiosi o può voler dire anche connazionale quindi quando qui è usato adelphos questa parola e al plurale per i fratelli di Gesù cosa intende il testo i fratelli di sangue parenti stretti o connazionali qui ci sono capite che da questo viene fuori poi non solo una corretta interpretazione di questo passo ma di molte altre cose e guardate un po connesso a questo aspetto poiché se si ammette che Gesù aveva dei fratelli biologici chiaramente vuol dire che Maria e Giuseppe hanno avuto dei figli dopo Gesù Cristo se invece si pensa che erano dei parenti stretti questi potevano essere i cugini che certe interpretazioni cattoliche traducono con questa parola adelphos quando invece in realtà cugino si dice anepsios non adelphos sono due parole diverse allora sorge la necessità di una contestualizzazione corretta allora voglio far vedere che cosa è venuto fuori da quella che potrebbe essere una diversa interpretazione a seconda della filosofia o della teologia cioè se quando interpreti hai già idee cui vuoi trovare riscontro nella Bibbia le trovi non c'è non c'è nessun problema alla Bibbia puoi far dire tutto quello che vuoi ma questa non è una onesta interpretazione questa è una diciamo scorretta utilizzazione del testo quindi l'interprete deve essere onesto e oggettivo altrimenti non è un interprete ma è un manipolatore Matteo 1.25 parla della nascita di Gesù e ho preso le varie versioni guardate un po' il testo c'è il testo cattolico dice la quale Maria senza che egli la conoscesse Giuseppe partorì un figlio che egli chiamò Gesù guardate invece il testo della volgata la volgata volgata scusa è il testo latino il primo testo il testo latino che abbiamo della versione greca originaria e qualche manoscritto non la conobbe fino a che non partorì il suo figlio primogenito e gli pose il nome Gesù quindi se il figlio è primogenito vuol dire che ci sono poi c'è il secondo genito il terzo genito ce ne sono altri altrimenti non ha senso dire primogenito quindi qui c'è già un elemento in più preciso che conoscere in questo senso è molto chiaro la conoscenza di cui si fa menzione qui vuol dire il rapporto carnale sessuale in questo senso quindi ho preso poi la versione greca il testo originario e dice e non la conobbe in alcuni è aggiunto sostituito questo non la conobbe in qualche manoscritto dal termine visse santamente con lei finché non partorì un figlio e chiamò il suo nome Gesù quindi dal testo greco emerge che Giuseppe non ebbe rapporti sessuali con Maria fino a che non partorì Gesù questo sarebbe il testo originario come vedete ci sono poi delle diverse versioni non si capisce che cosa sono andate a prenderne altre ecco qui per gli amici slovacchi abbiamo la slide in slovacco la Luzzi o la riveduta dicono non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù questo finché ricorre in tutte le altre versioni e ho messa soltanto in quella cattolica nel testo greco c'è ancora ecco qui la Luzzi riveduta la nuova riveduta Matteo 1 25 dice non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù la nuova riveduta la nuova Diodati dice ma egli non la conobbe finché ella non ebbe partorito il suo figlio primogenito mette insieme tutto al quale pose nome Gesù ora voi mi dovete dire ci sono sostanzialmente due versioni fondamentali in una si è più fedeli al testo originario nell'altra sparisce il finché è il primogenito da qui si capisce bene che se c'è poi questa impostazione filosofica o teologica chiaramente quando si va a interpretare i fratelli a Delphos non si può dire che sono i fratelli di sangue ma i parenti stretti quindi l'interpretazione che viene data dipende dalla idee in cui si crede e si adattano un po' al testo portandolo a certe traduzioni del resto Luca 2 7 guardate questa invece è pacifica in tutti ho ripreso sempre il testo c'è come il primo ma è quello lì dice diede la luce il suo figlio primogenito quindi il primogenito c'è in Luca 7 2 7 scusate lo avvolse in fascia lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo dunque sembra pacifico abbastanza che la parola primogenito che è aggiunta su Matteo solo nella volgata in Luca è scritta in originario nel greco quindi ce l'abbiamo c'è questa primogenitura poi in senso lato si può dire tutto ma qui non vogliamo dare soluzioni vi voglio solo mettere di fronte delle cose diverse che sono uscite dallo stesso testo perché voi possiate interrogarvi iniziare a pensare che forse è bene documentarsi forse è bene legge oggi a disposizione di tutti un testo greco interlineare c'è scritto in greco è sottotradotto in italiano comodissimo tutti lo possono leggere certo se poi devi andare a vedere i termini greci e tutto quanto ha bisogno di conoscere ma insomma un'idea te la puoi fare guardate un po' che cosa ha portato queste due diverse interpretazioni qui ho ripreso questo commento da non è tradotto in slovacco perché era un po' lungo per la slide ci scuseranno gli amici slovacchi l'ho ripreso da un sito la parola punto net che un po' tutti consultano quindi è di facile consultazione qui in Italia perlomeno e dice la parola primogenito del testo ordinario autentica in Luca 2.7 è qui cancellata dai critici in Matteo invece cancellata ma il versetto distrugge ugualmente l'idea della perpetua verginità di Maria perché l'espressione la conobbe indica l'unione dei sessi e la dichiarazione che Giuseppe se ne astenne finché non ebbe partorito un figlio prima con evidenza che in seguito poi non fu più così se Maria fosse rimasta sempre vergine come lo pretende la chiesa di Roma se Giuseppe non avesse mai convissuto maritalmente con lei l'evangelista a scanso di ogni equivoco avrebbe detto non la conobbe mai non lo dice dunque non vi è dubbio su questo punto Maria può aver avuto dei figli da Giuseppe d'altronde non esiste ragione alcuna per cui si devono considerare come cugini o figli di un primoletto di Giuseppe i fratelli di Gesù menzionati negli evangeli insomma a noi sembra che nessun lettore possa mai dare a questo versetto altro senso che il letterale a meno che egli lo legga con il concetto premeditato della perpetua verginità di Maria capite qui non voglio entrare nelle diverse dottrine me ne tengo ben fuori vi do delle informazioni oggettive questo è un commento su questo sito che si trova e che tutti consultano potete andare a vedere invece la stessa cosa presa il commento dalla Bibbia C.E.I. e quindi la nota al verso di Matteo della Bibbia C.E.I. dice pur avendo come primo senso parlavo di fratelli quello di fratello di sangue il vocabolo greco usato per Adelfos qui ho saltato alcune cose può indicare delle relazioni parentela più larghe c'è anche Anepsios per cugino ma in Tobia è usato sia come fratello che per cugino per la stessa persona l'ho un po' riadattato io perché era troppo lunga scusate se qualcosa non torna come andate a leggerla però dal pari dalla chiesa è stato interpretato per cugini di Gesù in accordo con la virginità perpetua di Maria dunque che cosa c'è scritto c'è scritto che siccome c'è l'idea in cui si crede della perpetua virginità di Maria la parola Adelfos in Matteo è interpretata sicuramente come cugini non come fratelli al contrario se non hai quel preconcetto anche perché dice finché non ebbe partorito Gesù non conobbe Giuseppe ma dopo non si sa ma dice ha avuto dei fratelli lo ripete più volte quindi qual è il senso da dargli? lascio un po' a tutti voi questo interrogativo che capite ha diviso e divide tutt'oggi grandi parti della cristianità su cosa? su un testo e si dice che le persone dopo hanno interpretato così in ossequio a quest'idea nella quale si crede ma da dove viene? c'è da domandarsi da dove viene? quindi dobbiamo andare a scandagliare meglio cercare di capire ma quello che io voglio far passare stasera come vedete non è una critica o un supporto di certe tesi o dottrine al posto di altre voglio solo farvi riflettere scuotere un po' le vostre menti sul fatto che avete la possibilità di leggere la Bibbia di interpretarla correttamente di avere il significato corretto letterale storico e potete avere rivelazione dallo Spirito Santo che abita dentro di voi questo dovete capirlo e dovete farlo altrimenti potete semplicemente prendere per buone le interpretazioni di altri interpreti e non avrete mai il significato originale delle cose in cui dovete credere questo è il problema devo concludere perché il tempo è già andato molto avanti ma forse ne parleremo la prossima volta vedete dunque il compito dell'interprete è la giusta la corretta esegesi e la esposizione ora è meglio che noi forse ci fermiamo qui per stasera la corretta esegesi e la corretta esposizione non possono ve lo dico fin da ora prescindere non possono prescindere dalla rivelazione dello Spirito Santo sono due strumenti necessari laddove l'esegesi serve ad interpretare il significato delle cose che allora furono dette e l'esposizione è il saperle riferire oggi a chi ti ascolta affinché quel significato oggi fatto capire nel contesto culturale di oggi possa avere lo stesso impatto di allora che volle l'autore originario del testo questo è il compito dell'interprete se noi non facciamo questo cosa diciamo alla gente quali idee diffondiamo in cosa crede la gente nelle idee che noi fabbrichiamo interpretando in un modo o no quindi dobbiamo cercare di essere rigorosi sotto questo profilo e comunque interessati a scoprire il significato delle parole e a chiedere a Dio allo Spirito Santo la rivelazione su quello che noi leggiamo voglio soltanto farvi vedere appunto quanto i pericoli dell'interprete siano sempre vicini le interpretazioni precedenti beh avete visto che siccome quando abbiamo un'idea preconcetta in testa poi tutto quello che interpretiamo dopo si basa su quello questa è la nostra interpretazione soggettiva oppure altri prima di noi hanno interpretato in quel modo e anche noi interpretiamo nello stesso modo o facciamo contaminare la nostra interpretazione dal giudizio di altri dall'interpretazione di altri ci può aiutare ma addirittura per capire che hanno sbagliato non per far dire all'autore originario ciò che altri hanno detto di quello ancora un altro pericolo dell'interprete è il preconcetto dell'uditore chi ascolta ha un preconcetto io posso leggere quel verso di Matteo a dei cattolici nel greco e cercare insieme di vedere ma se hai un preconcetto cioè hai delle idee in cui credi la tua filosofia la tua teologia non ci passi sopra non ascolterai mai non sarai mai pronto a sentire se c'è qualcuno un evangelico che pensa che il battesimo in acqua è solo quello e non altro non potrai mai dirgli che Cristo è venuto a battezzare nell'ospito perché se non ti immergi nell'acqua detto batto battizzo è finita non lo puoi fare senza quello senza acqua capite ognuno ha il suo preconcetto e quindi interpretando male le parole o interpretandole in un modo che è venuto fuori attraverso la storia interpretazione di tanti si finisce per credere in cose che poi ci domandiamo dopo duemila anni sono o non sono lì il problema è che noi poi siamo portati a vivere ciò in cui crediamo perché l'uomo è così ha delle idee ci crede e vive secondo quelle idee quando parlate con un ateo se ce n'è qualcuno all'ascolto magari e ti dice non credo in Dio non credo che Dio esiste anzi ha già fede ha già un'idea nella quale crede che Dio non esiste se hai fede da dove viene questa fede è fede crede che Dio non esiste la fede è una cosa seria la fede è la sostanza di quello in cui crediamo e la garanzia è la prova che quello che non vediamo ma in cui crediamo esiste e verrà visto per cui le idee che accettiamo come vere e originali diventano poi il nostro modo di vivere dobbiamo andare alla fonte è molto importante capite perché prima di parlare della cultura nel regno dei cieli dobbiamo capire qual è la costituzione di questo regno cosa ha detto il re a noi ci interessa cosa ha detto il re per poter vivere la sua parola e metterla in pratica bene credo che questa sera sia più che sufficiente vogliamo salutarvi e vogliamo pregare insieme qualche secondo affinché possiamo tutti avere luce sulle cose che avete sentito possiamo tutti non aver paura o timore di parole greche di altro ma possiamo immergersi in questa abitudine di cercare il vero significato delle parole e lascio con questa affermazione ho visto scritto un mio amico mi ha scritto una frase dice ho scoperto che la verità non è un insegnamento ma è una persona e questo mi ha colpito molto perché tutti noi lo sappiamo però lo voglio ridire la verità non è un insegnamento cioè la verità non è una dottrina ma è una persona se di Gesù ne fai una dottrina porti la gente a vivere secondo delle idee che non sono quelle di Dio questo è l'errore in cui puoi incappare se non sei un onesto interprete ecco per questo vi invito tutti a pregare per essere degli onesti interpreti perché lo Spirito Santo ci dia rivelazione perché abbandoniamo ogni errore se ci siamo accorti stasera o ci stiamo accorgendo in questo tempo che abbiamo fatto degli errori abbiamo diffuso degli errori abbiamo dato alla gente un modo di vivere che non è quello che ha detto Dio pentiamoci di questo ma subito ieri è già passato e ieri era il tempo giusto oggi è già tardi forza perché la gente ha cominciato a vivere secondo gli errori che abbiamo diffuso dobbiamo cominciare a cambiare non abbiate paura di cambiare se la persona che è la verità vi sta guidando a cambiare secondo la sua parola aprite il vostro cuore dunque e lasciate che l'ospito santo vi guidi siate genuini siate onesti Gesù disse il padre cerca adoratori in spirito e verità spirito sapete che quando si dice qual è il vero senso di uno scritto gli avvocati dicono qual è il vero senso della legge che devo applicare qual è il vero senso diciamo qual è lo spirito della legge lo spirito lo spirito è il senso più intimo più vero il nocciolo della questione lo spirito è il senso che dà vita a tutto il resto questo è lo spirito qual è lo spirito di questo libro se ti fermi alla lettera la lettera può anche uccidere ma lo spirito dà vita il senso il senso la vita stasera leggevo in luca perdonatemi un minuto solo Gesù incontra Zaccheo a Gerico a Gerico e gli dice io stasera voglio stare in casa tua e entra in casa e Zaccheo gli dice mi sono accorto che ho rubato la gente io restituirò tutto quello che ho preso anzi misura maggiore e metà dei miei averi li ridò tutti ai poveri io parlava con lui perché era quello che Gesù avrebbe voluto sentirsi dire Zaccheo stava amministrando i suoi beni per la prima volta in vita sua ha compiuto atti di amministrazione e subito dopo sempre a quella cena Gesù dice a tutti quegli altri gli racconta la parabola delle mine è in quel contesto contestualizzate le cose qual è lo spirito di quella parabola ti ho dato cinque mine me ne ha ridato i dieci bravo sei stato fedele te ne ho date tre me ne ridai cinque bravo sei stato fedele che senso ha qual è lo spirito lo spirito non è quello di accumulare di moltiplicare di mettere in banca di fare investimenti per avere profitti non è quello il senso è che accumuli cioè produci moltiplichi quando dai via quello che hai questo è lo spirito perché Zacchea aveva appena dato via tutto quel che aveva perché la salvezza era entrata in casa sua lo spirito invece conosco persone che interpretando la parabola delle mine avulsa dal contesto capisce che deve moltiplicare i quattrini su questa terra ma è semplice è possibile l'errore di questo genere lo spirito Signore Dio Onnipotente Spirito Santo ti chiediamo di illuminare la nostra mente perché possiamo essere aperti alla verità a te stesso la tua persona che vive in noi Spirito Santo guidaci alla verità tutta intera Signore perché possiamo capire per la tua rivelazione fino in fondo lo spirito della parola che ci hai tramandato grazie Signore per aver preservato la tua parola grazie Signore per averla diffusa averne permesso Signore la lettura a tutti quanti ti benediciamo oh Signore e nel Spirito Santo mi libererà grazie Signore che mi libererà Gesù tu sei un saluto da Siena a Canto Nuovo il Signore è con noi ci vediamo presto mercoledì prossimo sempre sulla web tv di Canto Nuovo Siena di Canto Nuovo di Canto Nuovo di Canto Nuovo di Canto Nuovo in Grazie a tutti.